Sono lontano, presto. Buonasera a tutti, di solito non faccio mai la pubblicità, ma visto quando vedete me sono sempre i miei lavori e allora oggi voglio far vedere chi mi registra e voglio fargli la pubblicità. Lei si chiama Yuna, è mia moglie, è la donna del millennio, è mia moglie. Buonasera, buonasera a tutti. Faccio pubblicità e ritorno. Niente, sono Yuna Bernasperlli, ho l'agenzia di donne over e stasera abbiamo questo evento di una bellissima spilata con il buon Fabio di Striscian a Salerno e sperando che vada, dobbiamo valorizzare le donne over e valorizziamole, manteniamole attive queste donne. Ciao a tutti. Sì, adesso sì. Ok, adesso vi farò vedere la spilata e sarà sul mio canale. Il prossimo è un video, è già pronto. Dai! Ragazzi, le molto belle, eleganti, abiti veramente molto belli questa sera, quelli che vedremo a tutti gli altri. Poi, questo è Rita Balestrieri, giusto? Questo è un abito della spilista. Odazione, mi raccomando, di un abito. Adesso, pronta la spilata due. Saria Angela Banarli. Abito sempre della spilista, Rita Balestrieri. Abito bello, modella bella. Ragazzi, difficilissimo, cercare la vincitrice tra le due, perché sono veramente belle e trampi, belle ed eleganti. Ricordiamo, la Angela Banarli, 30 anni, un po' più giorni di stelle. Votazione, i tuoi dati. Andiamo. Da numero 3, Dona, 40 anni, nata in Polonia. Bellissima come tutte le altre. Potete fotograppare, capite, tanto questa sera, perché veramente abbiamo delle donne che devono essere di alto, alto, alto livello, quindi non è facile trovare le vincitrici dopo 53 anni. Operatrice sanitaria, ovvi vari, tra cui in cucina, vi piace sinare, insomma, una donna moderna. Attenzione, siamo giurati, cerchiamo di guardare tutto ciò che hanno fatto, ma perché adesso in questo caso, questa passerella, 21, siamo masi. 22, Anna Okone, 53 anni, nata a Vicenza, mi piace viaggiare, e con le hobby, gira, viaggia, palestra, patinaggio, insomma, una donna sportiva a 360 gradi. Grazie. Questa sera ho scelto un bel borde, un razzone, per sfilare qui alla prima selezione per il 2018 di Miss Cover. e ancora la numero 23, giusto? Stefania Mora, 55 anni, residente a Parma, con questo vestito molto molto bello, molto luminoso, anche lei ne proviene con il suo sorriso. 55 anni, dicevo, voglio andare a Las Vegas E infatti, a qualche giorno c'erterà, dopo aver vinto, la Tepinci che comprerà qui a Milano 46 anni, Eni De Vito, numero 16, Diana Vettona 47 anni, nata a Milano Ricordiamo, volontaria per aiutare tutti nelle mani di difficoltà E sono nel cassetto alla fine del bandagismo, speriamo che fino a poi accada 16, Diana Vettona, 47 anni Numero 17, Monica Conetti, 48 anni, nata a Calarare Numero 17, Monica Conetti Quindi, colleghi, vi ricordiamo che chiudiamo le over 40 Vi do giusto qualche secondo Vi potete vedere la vostra lista Perché poi già stiamo nella categoria 1,50 Vi ricordiamo che appena finisce quella sfilata Andremo al buffet, vedremo a mangiare E poi, si sfilata Elena, sfilata Passerella Eccola qua Viene con voi a 43 anni Facciamo un'altra passerella giusto veloce Sicuramente hanno dentro una grinta che molte volte ai giovani manca Facciamo un'altra passerella giusto Eccola qua Ma non è una passerella giusto Eccola qua Eccola qua Eccola qua 61 anni Facciamo un petto Io non so se è vera l'età, eh, mi ha detto che è stato scritto 70 anni, lo chiederemo subito. Ciao, Rocca, Edoardo, diciamo il cognome. Intanto buonasera a tutti, richiamando Rocca Marta Novochieska. Facilissimo, facilissimo. E' sempre vicino, ci vediamo davanti da Giulia, così un bacino anche per voi. Tutto il fondo, il fondo accetto, ragazze, stringetemi, stringetemi, perché non dovete oscurare la visuale del pubblico. Allora, stai, faici che l'ha, faici che l'ha, stai. Stringetemi, stringetemi, andate, 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 ancora. Il piano, con riconoscenza, e gli ocari, Anna Salieri. Foto, foto, un attimo, via, via, scusa. Anna, andate a prendere tante.